Il 29 ed il 30 novembre 2019 il team di Odot Florence insieme ad un pool di professionisti del settore ha organizzato un evento premium nelle quale approfondiremo in modalità super pratica tutte le tematiche inerenti al web marketing. Noi sono più di 5 anni che organizziamo corsi di formazione e conosciamo molto bene il nostro pubblico, il nostro target. Il nostro target è composto da imprenditori che tutte le mattine si svegliano, preparano le colazioni, rifanno i lettori, rispondono alle email, rispondono alle recensioni magari pure si incazzano su delle recensioni, pagano le tasse di soggiorno insomma un pubblico che è quotidianamente sul pezzo e al quale è impossibile raccontare fuffa. Per questo motivo in occasione del lab del 29 e 30 andremo dritto all'obiettivo. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di rispondere a tutte le domande che quotidianamente il nostro pubblico si pone quali per esempio come incrementare il tasso di occupazione, come aumentare il prezzo medio come aumentare il tasso di disintermediazione domande quali è ancora utile nel 2019 investire nel SEO oppure è meglio investire i stessi soldi in Google AdWords oppure negli ads di Facebook, LinkedIn ed Instagram un pubblico che si chiede quali siano gli strumenti migliori da utilizzare penso al Booking Engine, al Channel Manager, al PMS, al Revenue Management System un pubblico che si chiede quanto si debba spendere nel digitale nel corso dell'anno e come si possano valutare gli investimenti fatti, il famoso ritorno sull'investimento insomma sarà un lab super pratico, è veramente impossibile mancare e noi siamo un team che lo stiamo preparando da mesi, siamo sul pezzo siamo agguerritissimi, veramente il 29.30 spaccheremo quindi davvero non mancate, se volete sapere di più su questo evento potete venire a trovarci, potete iscriverci, potete seguirci sui social potete venire direttamente allo Student Hotel alle 6, all'aperitivo perché sicuramente ci trovate lì insomma l'importante è non mancare il 29.30 perché davvero sarà un evento imperdibile ci vediamo prestissimo, buon lavoro a tutti